Buongiorno amici delle biciclette reclinate, in particolare dei veicoli da record finalmente siamo giunti quasi quasi alla fine della costruzione del Rev Zeppelin che è questo qua detta anche la balena, l'ex balena, che è un po' meno balena, un po' meno balenottera di prima mi piace molto, devo dire che dal vivo, non so dal morto diciamo del video, ma dal vivo è veramente bella da vedere, c'è ancora questa parte qua che è stuccata, è stata comunque l'ho rifinita, non vi dico la fatica che farla senza bozzi e roba del genere, perché qua ovviamente non c'è uno stampo, quindi senza lo stampo bisogna ovviamente stuccare un po' come i carrozzieri quando mettono a posto le superfici, vedete anche qua è da poi rifinire col carbone superficiale, però per il resto è sicuro che è bella liscina, poi ci sarà l'ultimo strato di resina e secondo me verrà un bel lavoro, sono veramente curioso di vedere in pista cosa combinerà questa sogliola, guardate da dietro com'è, penso che sia anche abbastanza simmetrica, e adesso è tutto in piedi con queste due, con queste due, sono supporti per un tavolo, però in futuro ci sarà sicuramente un carrello che uscirà, adesso devo capire se farlo così, tipo cavalletto centrale delle moto da cross, o come cavalletto laterale delle moto, che uscirà diciamo la stampella laterale, devo capire, oppure addirittura che uscirà proprio prominente, va bene, sono cose che vedrò io. Com'è il cupolino? Allora il cupolino è chiuso, anche qui ovviamente è da lisciare, ma sarà un lavoro comunque non lunghissimo, l'idea è quella di chiudere, di aprire, non chiudere, di aprire il cupolino qua, qua, andare avanti, andare qua, fin qua circa, e farlo ribaltabile, in modo tale da avere il doppio effetto di poter centrare, perché sennò entrare diventa un po' complesso, e dovrei aprirlo tutte le volte e chiuderlo, perché ovviamente sono due semigusci, li vedete, e quindi entrare, volendo si farà caldo, e penso che se dovessi fare la gara in Inghilterra farà caldo, di sicuro, a quel punto lì sarà possibile comunque eventualmente far la gara, diciamo almeno con la testa scoperta, si perde un po' in aerodinamica, o chiaramente farò anche la parte posteriore, farò un come sulla Rev HTH, vedete? Che tanto bene si è comportata ieri nella gara, poi ve ne parlerò in un altro video, della gara che ho fatto in Svizzera, vedete? Il casco è lì, e quindi il cupolino andrà a coprire, diciamo, la parte dietro del casco. Le colorazioni saranno più o meno come queste, quindi colore carbonio sotto, poi un giallo, un grigio, e bianco sicuramente sopra. Secondo me, la suocera è un prescatore perché dice, non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma quando la vedrà colorata, non cambierà idea, perché non cambierà assolutamente idea, non cambierà mai idea alle donne, però dirà, ma... no, veramente il mio socio cambia idea, diciamo, dal punto di vista quando deve, cambia idea, è uno dei suoi pregi, devo dire la verità, quindi no, no, su questa cosa qua. E no, vabbè, però devo fargliela cambiare, ovviamente, facendo qualcosa di un po' di gusto, insomma, che sia un po' carino, ecco, quello sicuramente. Ok, allora, adesso sono le 19.01, sono stanco perché dopo la gara di ieri, effettivamente un po' l'ho forzato, perché ieri doveva essere, appunto, ho partecipato con l'Areva HTH, doveva essere una passeggiata, in realtà c'erano tanti concorrenti, addirittura dei mondiali, c'era il campione del mondo assoluto, quello che aveva fatto il record anche, diciamo, il record aveva vinto la gara dei velomobili, quindi anche assoluto vuol dire che con i mezzi più veloci è stato il più bravo, e ovviamente ha vinto lui. Io sono arrivato secondo, però, eravamo in 22, tra velomobili, Formula pedali, trike, reclinate, eccetera, eccetera, è stata una gara estremamente combattuta, secondo me il video che poi andrò a pubblicare sarà molto divertente, andrò poi a mettere tutte le potenze, eccetera, per far vedere l'estrema fatica che ho fatto. Purtroppo in questo periodo sono un po', lo so che non mi interessa, ma fa niente, lo dico, sono un po' sovrallenato perché mi sto allenando più che altro con i rulli, però il problema con i rulli è che non si fa cosiddetto volume, ma si fa tanta intensità, e io ho un po' esagerato, e infatti non ho recuperato bene, però vabbè alla fine sono arrivato secondo lo stesso, se non altro non mi ha doppiato. Però, allora, vi volevo dire una cosa, la domanda è, secondo voi, con cosa partecipiamo, perché ovviamente ci siete anche voi, ah poi in Svizzera sono venuti anche a trovare tanti amici, Fabio, e gli altri nomi, cioè me li ricordo ma adesso non mi ricordo perché ho l'emozione di fare questo video, però mettete nei commenti chi eravate, sono venuti in 4-5 a salutare, quindi mi ha fatto veramente il piacere, gente vedete che un ragazzo è venuto da Cressa, quindi da qua è venuto fino in Svizzera, poi c'è un altro ragazzo di Lugano, un altro ragazzo di Bellinzona, insomma abbiamo fatto veramente il piacere, mettete i nomi così vi saluto ancora di più, è veramente piacerissimo, quindi avete risposto all'appello che avevo fatto, e va bene, c'era anche tanta gente, quindi bello, bello, bello. Allora, stavamo dicendo, la domanda che volevo farvi è, cosa facciamo? Andiamo in Inghilterra con l'HTH, che comunque sicuramente è un mezzo affidabile, e si è dimostrato affidabile, adesso vi faccio vedere anche perché, rispetto ai mondiali, vi ricordate che avevo avuto il problema della catena che, insomma, faceva le bizze, ho messo questo, diciamo, antiscavallamento in carbonio e alluminio, che ha funzionato da bestia, perché, anche se in Svizzera le strade dovrebbero essere perfette, erano abbastanza dissestate, per cui ho dato dei gran puscioni con la catena e non è mai uscita, perfetta, quindi non questo guida catena è perfetto, è perfetto, quindi l'idea è partecipiamo con questa, magari non so neanche se andare a carrenare la rota anteriore, per me va già bene, e già devo dire che me la sono giocata al di là del primo con gli altri, c'era anche Jürgen Birkenstock che è veramente forte e l'ho battuto di qualche, di una trentina di secondi, quindi è veramente contento, e quindi secondo me questa qua è a livello delle migliori, non la migliore, ma magari a livello delle migliori parzialmente carrenate, quindi sapete che ai mondiali ci sono varie categorie, ci sono gli scarenati, quindi gli scarenati sono come la rev, la rev normale, i parzialmente carrenati, che è su lui, poi ci sono i totalmente carrenati che sono i velomobili, diciamo che come questa a tre ruote, e poi ci sono le formula pedali, ci sono le pedal car, un'altra categoria, e poi ci sono i trike che vi ricordate che c'erano, insomma ci sono varie categorie, quindi io posso parteciperò con questa, la domanda è perché Elisa insiste molto, vai con questa che è affidabile e non ti fai cosa, oppure tentiamola veramente la carta della super top, perché io sono veramente propenso a questo punto ci sono ancora quattro mesi di prove eccetera, ci proviamo? Io veramente ci proverai davvero, perché ci terrei veramente a vedere come cavolo va sta roba, però accetto consigli, cioè l'idea è comunque, ve lo dico, l'idea è da qui a luglio, io mi iscrivo a luglio, magari ai primi di luglio, i mondiali sono a ferragosto, metà agosto, mi sembra dal 15 al 19, fino a luglio non deciderò, vediamo come va, però io sono propenso comunque a partecipare con questa, però fatemi sapere se dite che è un po' una cavolata, perché? Perché comunque un mondiale alla fine, anche se insomma magari non nella categoria top, l'ho vinto, quindi non è che devo dimostrare più di tanto a me stesso ovviamente, perché gli altri mi interessano relativamente, però mi interesserebbe fare una cosa di partecipare con un mezzo autocostruito da me, nella categoria super top, perché in realtà questo non è un velo mobile, è uno streamliner, sarebbe una categoria ancora, perché se ci sono almeno tre concorrenti in questa categoria, streamliner vuol dire che ha due ruote, carrenato con due ruote, velo mobile vuol dire carrenato con tre ruote, se ci sono tre streamliner e probabilmente ci saranno, anche di gente estremamente forte, andrò con questa, quindi potrei arrivare magari anche fuori dal podio, però magari con un mezzo che ho fatto io, facendo magari anche delle buone prestazioni, vabbè niente, questo vi volevo chiedere, cosa ne pensate, fatemi sapere nei commenti se avete voglia, se non avete voglia non c'è problema, però dai, adesso si presenta così, ma vi assicuro che a breve sarà un qualcosa di molto ovviamente più bello, è grande, è grande devo dire, però anche l'HTH alla fine non è anche se è così piccola, è lungo 2,90 m, 2,80 m, no 2,80 m mi sembra di ricordare, va bene dai, ne parliamo, allora se riesco pubblicherò poi il video di Lugano magari nel fine settimana, adesso vado avanti con la costruzione perché è tardissimo e non vorrei finire come al solito dopo le 9 e mangiare alle 10 e poi parleremo di tante altre cose, ho in mente di fare tanti video magari sul lavoro, sulla scuola eccetera, non so, se può interessare magari ne parliamo insieme, magari in una diretta, ho visto tante cose interessanti e avrei voluto fare qualche considerazione con voi sul discorso di intelligenza artificiale, smart working, lavoro, educazione eccetera, però vediamo, magari sono, poi come dice mia socia, poi divento il prete che fa la predica e non vi piace, va bene, dai, al prossimo video e ciao a tutti